La progettazione di questi vestiti non è la progettazione di vestiti, è la progettazione di un modo di essere e queste opere e la presenza di Dario Fo sottolineano questo aspetto culturale della moda e anche questo aspetto sociale. È una sfida perché è un marchio che ha rappresentato nella storia della moda un momento culturale e sociale quando la moda era soltanto stile e apparenza. È la scoperta di quello che è il luogo comune sui grandi artisti e scoprire che di dietro c'è una grande umanità, la disperazione, la fatica, il lavoro, l'impegno, i disastri, i tradimenti. La pasta è la parte di quello che ha rappresentato, è unикito, la fatica, il pane che ci ha riportato, l'intuolo, i disastri, la fatica, il pane oltre, il pane oltre, il pane oltre, il pane oltre, il pane oltre e l'intuolo, si la fatica, il pane oltre e il pane FTV.com